Siamo a Padova di fronte all'inceneritore di San Lazzaro, un impianto del gruppo ERA che è oggetto di un progetto di ripotenziamento con la costruzione della quarta linea in sostituzione delle due linee esistenti. Non c'è aumento dei volumi trattati ma certamente c'è il recupero dell'intera capacità autorizzata a suo tempo. A suo tempo ma oggi manca il piano dei rifiuti. La Regione Veneto che è il di riferimento per il trattamento dei rifiuti non ha in questo momento un piano dei rifiuti e quindi non è in grado di guidare gli investimenti delle imprese. Credo sia una mancanza grave e credo che sia necessario quanto prima che il mondo produttivo, il mondo delle imprese di servizio pubblico e la politica si trovino a discutere sulla necessità o meno di investimenti di questo tipo. Viviamo una trasformazione importante con l'introduzione dell'economia circolare ai fini di spingere la sostenibilità della nostra società e quindi dobbiamo capire se in prospettiva andare a fare investimenti come quello della quarta linea alle mie spalle abbia un significato. È solo un esempio, possiamo parlare della discarica di Sant'Urbano, possiamo parlare dell'impianto di Fusina a Venezia, possiamo parlare dell'impianto di Cadelbue a Verona. Serve una guida che solo la politica può dare per dare riferimenti sicuri alle imprese e per fare solo gli investimenti necessari alla luce della trasformazione delle filiere che stiamo vivendo. Credo che la politica sia mancata negli ultimi anni con il mancato aggiornamento del piano dei rifiuti. È indispensabile agire e agire subito per non fare investimenti inutili e per non lasciare il Veneto sprovvisto di una guida all'inserimento nel territorio di investimenti di questo tipo. È importantissimo agire subito, non dobbiamo portare investimenti sul territorio che non siano necessari, soprattutto quando hanno dei costi ambientali qualora non fossero necessari.